Per la prima volta nella storia del Pinerolese si è simulato un evento sismico di grandi proporzioni. È stata un'esercitazione e una simulazione che ha coinvolto i comuni di Pinerolo, Perosa e Luzerna San Giovanni e ha simulato un terremoto nella zona di 5.5 gradi della scala Richter. L'organizzazione è iniziata a novembre e in questi tre giorni di giugno ha impegnato le protezioni civili, i volontari e i dipendenti dei comuni coinvolti. Noi siamo andati a vedere come si è svolta la simulazione Luzerna San Giovanni, dove si è ipotizzato che il municipio crollasse e si dovessero spostare tutte le sue funzioni, ovvero il COC, il centro operativo comunale, nella sede della protezione civile in località Jallà. Questa esercitazione è a livello nazionale che ha per scopi le comunicazioni tra il COC, cioè il territorio e i vari enti, prefettura, città metropolitana, regione, dipartimento nazionale. E questa è una prima prova. La seconda è la valutazione del censimento danni degli immobili con la collocazione delle eventuali popolazioni che hanno le case inagibili in strutture tendate o in altre strutture. Ed è questo il secondo punto. Terzo punto è la questione sanitaria, cioè noi abbiamo quattro case di riposo che hanno delle problematiche socio-assistenziali particolari. In caso di emergenza cosa facciamo con queste persone? Oggi oltretutto noi abbiamo testato una scheda, la sigla SVEI, è un prototipo che il Dipartimento Nazionale Sezione Sanità ci ha chiesto di testare per la prima volta sul territorio per vedere se funziona o no. È un famoso triage socio-sanitario, cioè la persona che ha un problema sociale difficile, come viene collocata in caso di emergenza? In strutture di RSA, altre strutture, può andare in tenda? Tante volte di no. Quindi a catena, se il territorio non ce l'ha, si va sulla regione o interregionale. Le ultime due prove che sono principalmente comunali sono due. La prima volta che il COC, cioè le funzioni del Comune di Lusano San Giovanni, lavorano insieme per poter risolvere i problemi in stato di emergenza. Ed è questa una. La seconda, abbiamo simulato che il municipio crollasse, diventasse inagibile e pertanto i servizi comunali dovevano, nel più breve tempo possibile, essere attivati in un'altra struttura. E questo è il disaster recovery. L'abbiamo testato e nell'arco di tre ore noi abbiamo avuto un municipio inagibile, ma abbiamo creato una struttura municipale alternativa in forma ridotta, ma ce l'abbiamo fatta. Stamattina abbiamo fatto l'evacuazione vera e propria dell'asilo valdese. Una parte della struttura, sono partiti i vigili del fuoco che hanno verificato, abbiamo preverato tutto. Alcuni li abbiamo agliocati in altri RSA, prosenetute e tutto questo. Nel frattempo il rifugio Carlo Alberto, l'istituto Oliveto e la prosenetute hanno simulato l'evacuazione. Quindi noi dovevamo collocare gli 88 del rifugio Carlo Alberto, i 24 handicap gravi dell'Oliveto. Invece il prosenetute ha voluto, non ha evacuato nessuno, però aveva dei problemi sanitari all'interno, come lì tracheotomia, ossicinoterapia e tutto questo, noi abbiamo lavorato per trovare tutto questo in maniera che quello potesse lavorare tranquillamente. Le persone che vedete ai tavoli sono dei valutatori volontari per la dichiarazione di inagibilità o agibilità delle strutture che sono state lesionate. Cioè in poche parole, la funzione di censimento danni si avvala di queste persone, che sono geometri, architetti, ingegneri, al quale loro dichiareranno che quella casa lì è agibile o non agibile. In base alla loro dichiarazione, il coordinamento sopra decide di rialcolare la persona o no, perché se dichiarano che è agibile, deve rientrare nella propria abitazione. Questa è la sala radio, diciamo il cuore e gli occhi esterni. C'è la postazione dei vigili, cioè ogni gruppo che lavora all'esterno ha la sua postazione. Vigili del fuoco, soccorso sanitario Croce Rossa, questa è la rete regionale con i vari com, regione e Dicomac. Tutto il resto, segreteria e quindi qui abbiamo un po' il cuore pulsante. Queste qui sono le braccia, adesso dobbiamo passare la mente. Allora, questa è l'unità di crisi dove a questo tavolo sono seduti i funzionari comunali, a quelli sono dati le funzioni di soccorso. Allora, abbiamo funzione ufficio tecnico, funzione censimento danni, la funzione 2, sanità e servizio assistenziale, assistente alla popolazione e anagrafe stato civile, medico del distretto che coadiua la funzione 2, la sanità, per cui tutto quello che succede deve essere avvalorato dal medico. Abbiamo il trainer della provincia di Cuneo che è di sopporto come suggeritore, perché non è per tutto. Poi c'è la segreteria e io che faccio parte dell'unità di coordinamento. Questo è il tutto. Siamo tutti coadiuati nel cessimento danni dalla struttura regionale sismica e quindi si lavora proprio a livello verticale, però diciamo nello stesso ambiente.